Richieste le dimissioni del sindaco Petrangeli. Perché? La città ha bisogno di ricominciare a respirare, dichiarano i consiglieri di minoranza Sonia Cascioli e Andrea Sebastiani. Ormai anche i cittadini di Rieti hanno ben compreso la situazione, ossia una totale incapacità amministrativa che fa capo ad una cultura settaria arrogante. In merito al caso Miccadei che li ha etichettati come censori della moralità, i consiglieri Cascioli e Sebastiani osservano che adesso sono in buona compagnia. Lo stesso PD ha chiesto le sue dimissioni. Al di là delle fantasie di Miccadei, continuano i consiglieri di minoranza, la realtà racconta una storia diversa per la quale sarebbe stato più onesto nonché elegante riconoscere che questa è stata una delle tante brutte pagine della storia politica scritta dalla giunta Petrangeli, il quale sin dal suo primo giorno da sindaco, insieme col suo cerchio magico di eletti, si è incensato quale nuovo portatore di legalità, trasparenza e moralità. E allora chiediamo le dimissioni. Sarebbe un atto di onesta presa di coscienza. Ma il sindaco Petrangeli si dice ammareggiato, soprattutto di chi ha voluto far mancare il numero legale, non permettendo al Consiglio Comunale di discutere importanti questioni all'ordine del giorno. Petrangeli non si dimette e ricorda il suo buon lavoro, realizzato anche grazie a quanti, per ragioni che esulano dalla politica, hanno dovuto rassegnare le dimissioni. Per portare a termine il mandato nel miglior modo possibile, dichiara Petrangeli, ritengo necessario rafforzare la compagine esecutiva, con esponenti, espressione diretta, delle forze politiche. Ma come, se la maggior rappresentanza politica si sta frantumando, dileguando? Petrangeli chiede al Partito Democratico di indicargli una rosa di disponibilità di uomini e donne capaci e competenti, tra i quali scegliere in trasparenza, per rafforzare così l'esecutivo e garantire una rappresentanza ulteriore ad una forza politica principale, ma non unica, della coalizione. Intanto la città soffre da più punti di vista e alle famiglie non interessano i comunicati stampa sempre più di moda, hanno bisogno di chi sappia rappresentarli e tutelarli.